Parte un altro step di lavori intorno all'impianto sportivo del quartiere C30 in questi giorni d'inizio febbraio dopo la recente inaugurazione del nuovo campo di calcio in sintetico inserito nell'ampia riqualificazione dell'area sportiva. Con la sistemazione degli espogliatoi nei primi giorni di febbraio inizieranno i lavori di realizzazione di una nuova muratura di confine sul lato ovest del campo da calcio di via Papa Giovanni XXIII. Filtra l'intenzione esplicita di intitolare il campo al compianto Aldo Trabucco, ex consigliere comunale a Schio e soprattutto presidente del club San Vito C30, scomparso di recente. Proprio qui nella sua seconda casa fu celebrato il suo funerale pubblico. Entro la primavera saranno tolte le transenne con previsioni di circa un paio di mesi per il cantiere in via di assestamento. Per arrivare alla costruzione del nuovo muro di altezza pari a quello attuale, due metri, si è dovuto attendere la necessaria approvazione della variante urbanistica. Oltre alla nuova muratura verrà rivista la zona di accesso al campo con una muratura della stessa tipologia e con l'installazione di nuovi cancelli, il tutto per l'importo di circa 73 mila euro.